Ciao a tutti i fuffolini, sono Lightning e bentornati in questo nuovo video su Fall Guys ragazzi, perché questo gioco sta per arrivare su Nintendo Switch il 21 giugno quindi scrivete sotto nei commenti se anche voi lo scaricherete anche perché è totalmente gratuito ma visto che manca pochissimo, beh, io inizio già a giocare e ricordatevi che dal 21 giugno potrete utilizzare il codice creatore Lightning95 e se volete giocare con me iscrivetevi al canale, commentate questo video e lasciate like a questo punto ragazzi andiamo a dare un'occhiata perché è davvero tanto tempo che non entro su questo gioco ho perso tutte le mie skin belle, avevo la skin con la tizia, aveva il tutu la tizia ma non ce l'ho più perché probabilmente era un altro account ancora, quindi ho mille account andiamo a vedere un attimo i costume disponibili, se non mi sbaglio esatto, ci hanno dato la skin del Pride, che bella, è molto molto bella vediamo se ho anche i pantaloni oh yes, guardate che è carino questo manciolino onestamente ragazzi, rispetto a StumbleGuys, si nota già la differenza ma iniziamo subito ed ecco la prima mappa ragazzi allora, intanto vediamo un attimo i tasti poi io sto giocando in anticipo così quando il 21 giocherete anche voi sarò bella pronta a sconfiggermi lo so, non vale, ma tanto ragazzi, non c'è speranza per me allora, come si salta? ok, con la B si salta quindi penso che fa il tuffo come si fa? ci deve essere anche il tuffo a pesce dai, non cadere, non cadere allora, così teniamo gli avversari ok, con la Y mi tuffo aia aia, fatemi passare ti tengo amico ah, si è spiaccicato sulla parete vai, attenzione vai, 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 vai Y, vai, salta ok ok allora, qua viene il punto critico perché è ovviamente questa specie di cosa ci fa cadere ecco vai, salta vabbè, è ok cerchiamo di andare a sinistra poi a destra corri, 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 corri corri, corri no vabbè, ragazzi è la prima partita sono stata già eliminata la prima partita di qualificazione 41 persone si qualificavano 41 e su 41 non ce l'ho fatta ragazzi ora vi faccio vedere chi comanda nella giostra medievale questa pista me la ricordo mi ricordo che il trucco per evitare le asce giganti era tipo passare negli angolini ma mo ci proviamo e vediamo quello che combiniamo mo ci proviamo quando uscirà questo gioco anche per voi sarò fortissima e non mi batterete mai vi ce l'ho sempre io forse ok mi sembra che qui aiuto 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 ok mo qua è più problematica la situation perché è veloce vai oh invece no ce la fa ce la fa ragazzi ce la fa attenzione aia porca miseria tagliata a metà aiuto rotola come angolino e vabbè niente ok allora vai 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 ok prima andato mo andiamo da questa parte oh no vai ok sono sopravvissuta il ponte il ponte il ponte il ponte il ponte e niente dai però ce la dobbiamo fare dai però ce la facciamo ce la facciamo e prima qualificazione ve l'ho detto che era già stramedievale il problema di fall guys ragazzi che ha tantissime mappe nuove che non ho mai fatto perché io ho giocato solo la prima stagione e mo ce ne sono sei stagioni questa è la sesta tipo questa mappa mai vista è tutto è tutto allenamento no mo che dobbiamo fare boh io io seguo gli altri tipo un flipper oddio non mi piace per niente dove sono non riesco a veder eccomi eccomi non mi vedevo oh oh io largo ok ah sta cosa si chiude ok ok ho paura c'è la melma c'è la melma ragazzi veloci che c'è la melma che sale cos'è sta what figo quant'è bella sta mappa vai c'è la melma che sale dobbiamo essere veloci aspettiamo ok pugno vai 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 e salta vai no stavo per tuffarmi così vada il pugno mi ha buttato nella melma malissimo dio ragazzi la mappa sportellate questa me la ricordo si questa me la ricordo si allora a modo dove vado sinistra destra sinistra destra vado sinistra sinistra destra sinistra destra vai mamma mia ragazzi sono passata per miracolo ok adesso me la ricordo c'è tipo la discesa difficile oh ma che mi tieni non mi toccare non mi toccare ok ricordo ok 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 vai 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 e ce la fa e ce la fa per miracolo ma ce la fa no questa mappa è bruttissima in pratica dobbiamo fare 100 punti restando sulle piattaforme che ci fanno fare punti non è semplice non è semplicissima ragazzi è abbastanza tosta questa allora io salto nel tamburo qui a destra mi sembra il miglior eh vabbè già cado sono storti sti tamburi ho fatto un per cento di punto vai sono rimasta incastrata dai sono rimasta incastrata non è giusto no raga qua questa è tosta allora saltiamo in questo vai e duffati ok e duffati ok vai e duffati vai 26 punti 27 32 vai così 38 no perché mi ha spedito via vai 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 sulla piattaforma viola torna sul mondo sul tubo vabbè sul tamburo volevo dire vai tamburo 62 67 71 76 80 84 80 uè no no perché mi ha spedito via no 93 93 93 dai che ci sono mi manca pochissimo raga è salta maledetto vabbè abbiamo ancora un po' di tempo si sono qualificate solo 10 persone dai che ce la famo dai che ce la famo non ce la famo non ce la famo dai 4% ragazzi 4% vai 98 c'è ce l'ho fatta ragazzi mancavano solo 2 persone mamma mia praticamente dovete stare sulle varie piattaforme e fare punti non è semplice però ce l'ho fatta oh no oh no beccati il blocco no ragazzi questa no è quella è quella dove salgono i vari blocchi tu non sai che tipo di blocco tra l'altro la piattaforma è piccolissima no questa no comunque il mio fagiolino colorato vi stupiremo mo qua dobbiamo stare attenti perché la gente tiene e fa le cose concentrazione concentrazione in realtà potremmo provare ad essere un po' cattivelli tipo con questo no però poi il karma ci punisce per adesso tutto molto tranquillo i blocchi sono uè adesso avete visto avete visto mamma mia ragazzi ho rischiato ho rischiato perché qualcuno mi ha anche tenuto ho rischiato conviene stare sempre in mezzo vai 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 mamma mia uè meglio avvicinarsi un po' stare in fondo non è una scelta molto saggia oh ma non mi tenere mani puzzolenti dobbiamo resistere 50 secondi saranno 50 secondi lunghissimi ok 44 39 mamma mia ragazzi mamma mia panic panic ma la situazione si fa complicata sta diventando tutto veloce sta diventando velocissimo 27 secondi mamma mia panic qua c'è poco spazio 10 9 8 7 6 5 4 2 1 vabbè indietro qualificazione raggiunta mi sa che questo è il round finale in quanti siamo rimasti e sono stati eliminati pochini 19 no penso che ci sia un altro round prima della finale siamo in tanti per partecipare a una finale penso ok seguimoli oddio ci sono oddio ci sono i pugni mamma mia se non saltavo morivo malissimo ok dove mi porta sto tubo perfetto allora credo che non bisogna saltare eh però eh però c'è il vento ok non dobbiamo saltare nelle piattaforme eh ok ho capito mi conviene evitare le cose del vento vai mamma mia è passata ok vai cioè se se c'è la cosa che fa aria è finita ragazzi vai tuffati ok andiamo comunque è carina questa dei tubi difficile complicata ma molto molto carina aia non morire fagiolino allora in realtà volevo andare potevo passare dal centro però vabbè eh ho fatto così ho fatto prima vai 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 dai ci stiamo avvicinando ragazzi ci stiamo avvicinando ce la possiamo fare ce la possiamo fare cosa succede qua sparano delle cose colorate aiuto ma aspetta io non so allora raga non so come mi devo agganciare no dai però non è giusto mi fa ripartire da qua ma l'avevo fatto sto percorso what ma sono tornati no ma sono tornati indietro sono vabbè come ora mi fa ripartire da qua ma è tutto storto sto gioco niente non ce l'ho fatta o forse si o forse si aspettate c'è un posto no niente non ce l'ho fatta mi sono pappinata sono tornati indietro e niente tra l'altro non so come cavolo mi devo tenere alla barra vabbè raga non è andata male nonostante comunque non non era conoscenza della della pista ma comunque questa questo è il primo di tanti video perché usciranno tantissimi video anche fino al 21 giugno per prepararci per conoscere le mappe voi lasciate un like fatevi sapere se scaricherete full guys su switch segnatevi il codice lightning 95 per supportare un creatore e noi ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti